Ecco un prezioso promemoria di Carlo Verdone sull'importanza di dare sempre il nostro meglio, una persona alla volta. Ti è capitato nel corso della tua vita di dire non ce la farò? È stato quando affittai un piccolo teatro underground di 50-60 posti, poi dopo quattro giorni gli amici, i parenti, gli amici, quelli che invitavi, sono finiti, doveva entrare il pubblico quello pagante veramente. Ci fu una sera che non c'era nessuno, fu un momento di disperazione, fino a quando entrò un signore. I miei due mi fanno, ma facciamo uno spettacolo per uno. Io feci lo spettacolo nel migliore dei modi, sapendo che quello sarebbe stata sicuramente la mia ultima presenza su un palco. Salutammo dalla tristezza più completa, il giorno dopo alle tre mi arrivano delle telefonate e mi dicono «Ma hai letto la pagina degli spettacoli?» Mi dicono «No, quel signore al quale io feci lo spettacolo mi scrisse un'intera pagina dicendo «È nato un nuovo comico, si chiama Carlo Verdone». Da quel giorno 5, 15, 20, 40, 50. Fino ad oggi? Il teatro non bastava più.